Furte e danni del patrimonio culturale, 5 gli arresti dei carabinieri del comando di Bologna a coadiuvati da quelli di Mondo, Torino, Venezia e Napoli. La banda di pregiudicati campani da settembre 2017 fino alla fine del 2018 aveva trafugato da vile nobiliari, musei e luoghi di culto. Tra l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e le Marche decine di opere d'arte che poi avevano rivendute da acquirenti compiacenti a loro volta indagati per ricettazione. Tra i 21 dipinti recuperati anche un'opera del XVIII secolo e un dipinto a olio su tela degli inizi del Settecento di scuola napoletana. Grazie a tutti.